Ciao a tutti ragazzi sono Gongs e Vidal, benvenuti in questo nuovissimo video, siamo con Fixer nelle vesti dei supereroi di due season passate e della nuova season, ragazzi sono Starlord con il suo ballo e se dovete prendere Starlord mi raccomando supporta creator Gongs, dovete farlo tutti, è bellissimo anche il ballo e poi guardate, guardate c'è Grutin appeso nella schiena, fantastico, fantastico comunque siamo nella duo Detran, io devo aiutare Fixer a completare il suo percorso, lui deve aiutare me a completare il mio percorso non penso ci sia percuro da fare ma iniziamo, iniziamo come vedete non possiamo raggiungerci colleziona 20 monete 20 monete? Non l'avevo visto come vedete dicevo non possiamo unirci, ciao Fixer allora io devo scendere qua, tu devi scendere là immagino oh, figo, benvenuti nella Detran 2.0 Adrian, ok è il suo iPad, va bene l'ha fatta da un iPad, se questa mappa è fatta da un iPad ed è figa cioè, non c'ho niente altro da aggiungere tu sei finito io ho un glider a me dice livello 1 tre monete ok, quindi dobbiamo prendere le tre monete del livello 1 tu hai delle impulsi di un glider, immagino di dover atterrare su questi lampioni qua ma io non so dove sono scusami tu vedi per caso sotto di me l'altra moneta una è a fianco a te e le altre sono in fondo ok mi fido di te, Fixer quel lampione dici? sì tu devi tirare l'impulso su di me e io devo glidare sul lampione ok pronto? vai 3, 2, 1 non è facile e invece e invece adesso devo fare un parkour io lo uso su me stesso, immagino non fare domande non fare domande pensavo di non poter andare sulla parte fine del lampione e invece quando vuoi di nuovo identico a prima 3, 2, 1 nice sono atterrato direttamente sull'altro poi finiscilo e poi io me la vado ok invece ci potevo camminare a quanto pare no ma sono scivolato come sono scivolato scusami come sono scivolato me lo puoi spiegare tu e che penso? quando vuoi 3, 2, 1 easy direttamente sul terzo con la moneta riesci a prenderla? non più perfetto ho una shockwave ok allora io vado là prendo il checkpoint ok prendo la seconda moneta ho un altro impulso vai ok penso di aver capito prendi il glider perfetto io ti lancio la shockwave esattamente sotto di te e quando sei a massima altezza te la lancio qua vicino al muro ok? ok quando sei a massima altezza con la shockwave devi correre avanti usi il glider e salti in alto dovresti riuscire 3 2 1 lancio e ma non ho capito quale muro allora un muro c'è alto questi sono muretti avrei detto muretti vai un po' più indietro vai 3 2 1 eh ma ci devi correre sopra per spararti in alto no? senti ma critichi tu che hai fatto 10 volte quello dei lancani vai 3 2 1 perfetto nooo abbiamo capito il meccanismo ok 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 lancialo al centro al centro ok 3 2 1 grandissimo ho fatto prese il check point ok ciao fix hai una moneta sopra di te quindi ricordatelo una moneta sopra di me sì nella gabbia sopra oh oddio ho un lanciarazzi hai un lanciarazzi e qua c'è un punteggio ma che che dice qui? oddio l'ho appena letto dai qua in piedi e non cruciare no no là sopra rocket ride your teammate to the sun cioè tu mi devi lanciare con il razzo per farmi entrare qua dove c'è la moneta in poche parole proprio verso il sole appunto noi sui rocket ride come siamo messi male? allora ci sta dando indicazione stai qui e non cruciare quindi io spammo salto così sai cosa prova mi stai anche ammazzando proprio adesso hai smesso di salta no ok ci sono ci sono il prossimo è buono ok mi fido vola all'infinito il raggio mi preoccupa sono morto per l'esplosione ok va fatto full vita va fatto full di vita perfetto ok perfetto 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 ok la moneta l'hai presa si si l'ho presa vai vicino al muro tipo lì dove c'era scritto rocket ride esatto ok ah vedo si vedo un'uscita io ho un impulso vai stesso sistema di primo ok te la lancio dietro vai non ti ho avvisato va bene così perfetto ho ancora due impulso oh ok impulso your teammate before continuing ok l'abbiamo fatto questo ho una desert eagle 3 2 monete nascosta c'è una zona qua allora mentre fai parkour devi aiutarti a evitare le zone e come dovrei sono morto evitare le zone mentre mentre io faccio parkour devo lanciarmi nella lava per toglierti le zone nella lava da fammi provare si la resetto ma quella ho visto il cerchietto grande grande continua continua devo capire aiuto no aspetta hai fermo lì no devo spostarmi ho capito ah ok 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 difficilissimo no vabbè è fighissima sta cosa è fighissima ok come prima ok aspetta vai nella prima parte vai resetta aspetta 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 che passi e vai nella seconda parte vai vai resetta 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 grande tranquillo 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 sto aspettando che passi l'altra vado ok vai resetto devi saltare su devi saltare su direttamente vai hai tutto il tempo mi sei bugato il personaggio eh ti vedo appeso a nulla infatti oddio ci sono uff posso mollare ok poi oddio mi sono spaventato oddio c'è uno che mi spara morto avanza avanza che resta ah ecco perché hai una pistola ok sono salvo sono salvo ok non credo spero perché la pistola non me l'hanno ancora tolta io vedo il vuoto il vuoto sto scivolando sto scivolando ghiaccio speed speed porta checkpoint sento vicinissimo a me sì ti vedo no sì ti vedo tre coin c'è scritto vuole fino al knockback ce l'hai tu ok ce l'hai tu allora io devo salire moneta no colpisci il tuo amico oh mio dio sai da cosa l'ho immaginato dal fatto che tu da lì adesso non potevi passare qua perché c'è la barriera e quindi se tu avevi una pistola o ti serviva ah sì ti serve per arrivare anche lì dopo mi serve anche per infatti ho solo 200 colpi ok ok ma basta che ti colpisco così ok ok immagino di dover fare la stessa cosa io con te no io ho preso un checkpoint adesso oddio ho un parkour e io ho una pistola vabbè tanto ormai sono il pro con queste pistole dimmi che c'è il keep inventory sì ok mamma mia che pro ma c'è un geyser ma pensavo fosse ma non vado no vabbè trickshot fixer trickshot ma poi lo vedrò trickshot di quelli proprio paurosi ho preso una moneta e ho trovato il tempismo per girarmi ok è pro eat your teammate and knock ok mi ha tolto la pistola ah quindi tocca a te adesso sì sali allora pronto questi cosi fanno vai vai no no prima fammi prendere la fontana sono un grande ho 20 di vita non fa niente eh io penso di poter fare così ah ora tocca di nuovo a me ah aspetta che apri una moneta credo mi manchi una terza moneta ehm first team 112 monete non capisco scusami guarda a destra ho visto ma che cavolo ok quando vuoi perfetto ho 19 HP ah io da solo ok immagino di allora io per sicurezza no scendo checkpoint checkpoint ma cosa vuol dire walk in here to respawn etk ok devo camminare qua per respawnare la tk che c'è già oltretutto e io invece devo eh ah saltare nel tuo tetuccio what ok quindi io il percorso lo devo fare sopra di te e poi ho una desert non so per fixer io son pronto non è vero il kart sta andando dove vuole come prima ok dovremmo esserci si si ci arrivo ci arrivi continua a muoversi da solo vai piano piano buono buono non cadere nel laghetto che si muore tantissimo fa un micro leggo finchè ti sento rimbalzare è tutto ok si ok sei sopra sopra si controllami e dimmi dove ci arrivi grandissimo vai 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 verso la cascata ancora oh sta mirando a me così vai 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 arrivo ancora più là andiamo su sicuro ok hai ragione perché ha smesso di saltare sarebbe stato perfetto potevamo muoverci eh non ci ho pensato eh sono quelle cose che ti capitano e non sei pronto ad accoglierle esatto oh oh ho solo due colpi due colpi ho preso in testa sei sopra stai fermo stai fermo stai fermo ok sono salvo sono salvo vai tranquillo ho preso anche la moneta eh sei fuggito e freddi subito ok due coin per questo livello una ce l'ho ok c'è 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 una cosa mi dice che tu hai la mappa si oddio quindi è un labirinto fantastico allora ti so dire dove andare tutto a sinistra fino a fondo 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 e vai a destra ora sono a destra vai curva fai la curva e vai tutto dritto sino alla fine curva curva scendi alla prossima curva ok ok hai una curva a sinistra per forza a sinistra giusto no non è per forza però devo andare a sinistra ah ok sì questa sì ok poi ne hai una a destra e una a sinistra vai a sinistra sali sino alla fine sei costretto ad andare a sinistra poi hai sinistra e destra ok devi andare a destra sinistra e destra vai a destra bene sali su e sei costretto ad andare a sinistra per due volte poi hai infatti vedo una moneta una curva a sinistra e più avanti una curva a destra in più puoi andare a dritto giusto sì devi andare a destra ok sei costretto esatto subito a destra non andare a dritto sali su e un bivio a sinistra a destra vai a destra ok che anzi costretto a sinistra ok c'è una barriera e vai a dritto para qui è successo qualcosa sì ho sparato una barriera si è aperta c'è uno scivol ok adesso devi riuscire a farmi uscire ah si è spaccata la barriera perfetto posso andare ah ecco era quello non è che tu adesso c'hai ah no c'è uno scivolo anche per me ole questa cosa è una figata ok che velo 7 tu hai quella io ho questa un coin una moneta vabbè ognuno ci prova no no leggi ognuno all'altro si allo stesso momento cosa vuol dire perché se no l'altro ovviamente ci aspetta io ti devo far volare sino a questa piattaforma e tu mi devi far scivolare lì si ma scendi giù dalla scala così la usi come rampa hai ragione oh c'è un hint c'è un hint guarda uh di tirarla nel rosso è geniale meno male che me ne sono accorto ok quando scatta il 55 nel tempo ok no me l'hai tirata il troppo indietro ho sbattuto sul muro cavolo devi devi ucciderti ok uff ok moneta prendi il checkpoint devi assicurarti no che ce la facciano tutte e due prima di prendere il checkpoint giustamente hai ragione ci sono ok quindi back to restart ah ecco perché ah ok checkpoint 6 monete e sopra di me si si ho io il lancerazio fixer vedi qua c'è una scritta no vai invece il checkpoint ok cosa dice rocket ride time eccolo ah perfetto salta devi anche prendere la mira è perfetto la barriera non ci credo non ci credo con la barriera era perfetto faccio schifo perfetto il razza ha continuato what boh non mi interessa sinceramente l'importante è che tu sia arrivato poi tu penso che hai un'arma vero troverai un'arma davanti a te in fondo no niente si allora oh mio dio mi devi dire si stai sulla destra e fai un salto piccolo ok in avanti piccolo in avanti tipo guarda le distanze così questa è la distanza ok diagonale a sinistra stesso salto frontale è molto più piccolo rispetto a quello in cui sei adesso cammina piano piano fai un passo e salta diagonale a destra è abbastanza largo grazie salto no il quadrato è abbastanza largo non il salto cioè si è andato troppo in diagonale mi sa però ah no ok no no ok non dirmelo sto scennendo il tuo sospiro è bastato il tuo sospiro mi è bastato ma questo è difficilissimo pronto? che cacchia vai resettati aspetta mettiti pari a me perché alla fine il percorso è lo stesso si camminando ok questo è il salto ah cioè tu fai lo stesso si a quanto pare si non ci avevo ragionato prima molto più semplice ma io non lo posso fare sì in un fondo c'è il tizio che mi spara quindi a un certo punto ti devo aiutare quindi tipo adesso guarda dove sono stai camminando fin lì sì qua sto camminando fermo ok questo è il salto ritorno di là cioè è dritto io posso farlo di lato così tranquillo ok puoi prendere la moneta ok adesso vieni da me allora io sono qua dove sei tu ok quindi teoricamente tu sei nella prima o nella seconda scia cioè se ti guardi verso lo spawn ok sono vicino al centro di quella a destra ok perfetto allora dovresti fare cioè vicino al centro perfettamente al centro non sono perfettamente al centro stai vicino mettiti in linea con il centro non troppo ok ci so girati verso il fronte e e fai due passi non puoi farli insieme a me uno e due ecco perché non li volevo fare io fermo ok perfetto salta in diagonale verso destra verso destra quanto grande non troppo però vabbè il cubo è molto grande quindi puoi saltare proprio oltre vai quindi posso saltare di brutto grande prendi la pistola non posso sì è finito cioè devi devi correre ok uccidimelo ci mancava solo che cadesse io ci sono ci sono ci sono ci sono ok la parte qui è stata fantastica c'è poco da fare no scusami no ho un attica no non ci credo devi fare la stessa cosa sì e questa volta non ho blocchi cioè non mi posso fermare bene molto bene aiuta il tuo compagno a non toccare salta sopra il tuo compagno vado no sto scivolando me ne sono accorto perché stavo scivolando anch'io sto avanzando piano piano ok sì sì puoi io ho avanzato ostante vai vai ok vai continua ad andare tutti zitti qua non voglio neanche commenti in questo momento del video provare avanza avanza vai sul muro ci sono ancora non ho preso il checkpoint aspetta ok molte rampe di scale moltissime anch'io e attento al vento dei trappoli una porta anch'io un jetpack non hai capito non ho checkpoint io per caso è un rampino vuoi sapere veramente cosa ho vuoi sapere veramente cosa dobbiamo fare l'ho letto devi agganciarti a me che volo l'ho letto non ci credo cioè devi agganciarti con la tua macchina a me che volo e io non ho checkpoint tutto ciò neanche io tu devi arrivare qua sopra la moneta io devo come sei morto scusa ma io avevo il checkpoint vicino alla macchina no non è vero oh mio dio ho il jetpack però ah il jetpack che non mi serve a niente quindi cosa devi fare non mi serve a niente perché c'è la zona non hai capito devi resettare e rilanciarmi col bazooka col bazooka oh mio dio questa cosa è non lo so ah non sarà facile non sarà facile e sai che se moriamo entrambi qua alla fine sì è perché tu non hai il jetpack ti lancio un jetpack prova ce l'ho ce l'ho però ce l'ho però ce l'hai sei pronto? vola dimmi che ce la fai sono dentro ho una pistola io ho preso un coin oh mio dio ah c'è un coso da fare esplodere? io penso di dover continuare con questa ah no aspetta 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 scusate io ho fatto esplodere una cosa starà facendo una reazione a catena? sicuro ok spara qui perché dovevo sparare anche io ma grazie mancavi tu non l'avevo vista prima oh checkpoint ma ok coin vieni con me vieni con me vieni con me oddio poi gg 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 bellissimo sto finale mamma mia stupendo bellissimo no vabbè è stupenda questa mappa stupenda bene ragazzi per questo video è tutto questa mappa è veramente finissima prendete un amico e giocatela insieme assolutamente e se anche voi ovviamente volete il codice il codice volete lo starlord codice supporta creator gongstenlitemshop in basso a destra ragazzi chiudiamo qua ciao ciao